Presidente Sisi, la ringrazio per la velocità e la determinazione con le quali ha inteso organizzare questa conferenza. Conferenza che io considero molto importante dopo il terribile attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre. E dobbiamo ricordare se è abattuto contro CIVILI NERMI, una infiratezza senza precedenti che lasciano inorriditi e che dal nostro punto di vista è giusto condannare senza ammiguità. Per l'Italia era un doveroso per questa differenza, era un doveroso per il ruolo storico che l'Italia svolge come ponte il dialogo tra l'Europa, l'interraneo e l'Europa. E lo era per le possibilità che questo vertice trospetta, nonostante le posizioni di partenza possano trasmbrare, diciamo così, distanti. Perché se anche i nostri punti di vista di partenza non fossero perfettamente sovrapponibili, Perfettamente sovrapponibili il nostro interesse. L'interesse di tutti i leader seduti attorno a questo tavolo, E ciò è l'interesse che quello che sta accadendo a Gaza non diventi un conflitto molto più ampio. Non si trascorre in una vera di religione, in uno scontro tra civiltà, prendendo vani gli sforzi che pure coraggiosamente in questi anni sono salvati in senso contrario, per normalizzare il corso, perché l'impressione che ho io, e lo dirò con la franchezza diciamo che mi è propria, è che per le modalità con le quali si è svolto fosse questo il vero obiettivo dell'attacco di Hamas. Non difendere il diritto del popolo palestinese, ma costringere una reazione contro Gaza che minassi alla base ogni tentativo di dialogo e creassi un solco il formabile tra i paesi arabi, l'israele, l'occidente, compromettendo definitivamente la pace di benessere per tutti i cittadini coinvolti, compresi quelli che si dice di voler difendere la città. Significa che il bersaglio siamo tutti noi e io non credo che noi possiamo cadere in questa trappola. Sarebbe una cosa molto stupida. È la ragione per la quale io credo sia importante essere qui, per la quale credo sia molto importante continuare a dialogare e a lavorare. io credo che ci siano alcuni punti fermi da ribadire. Io credo che ci siano alcuni punti fermi da ripака dire. che l'irrha è adorato in qualche paura per il popolo per l'acquisto il muslimo per l'acquisto l'islamo e questo è un'acchietto per l'hamao che si tratta di l'irrha di per il popolo palestinese e anche per l'irrha di per il popolo palestinese ma nessuna causa che giustifica ma nessuna causa che giustifica ma nessuna causa che giustifica la scuola che giustifica l'islamo che si è accostibile ma nessuna programmativa non sentility ma nessuno ma nessuno la sua La loro questo tipo di rieaccione di un Stato non può e non deve mai essere motivata da sentimento di vendetta questo è tutto quello che sono, sono la nostra parte di rieferimento, quello è l'arcastione del modo di riscaldare la sicurezza che migliorano, è quello che sia un po' di risultato di riscaldare la popolazione civile e questa è l'arcastione che si deve essere un po' di riscaldamento nel nostro paese è necessario per evitare la sofferenza della popolazione la nostra paese è necessario che ci sono stati con gli bambini i bambini in questa regione credo che questo è un lavoro che aveva fatto in questo senso in questa nautica credo anche che questo è il corso del corso dell'europo contro la Ghazza e per l'Italia ma chiaramente ma per tutto il risultato deve essere accompagnato per l'Italia e per l'Italia e per l'Italia e per l'Italia sono molto preoccupi per l'Io ci siamo molto preoccupati per l'Io in questo senso e ci sono molto preoccupi che aveva un risultato in Ghazza e ci sono molto preoccupi per l'Italia e spiega nell'Italia con l'Italia in Ghazza il corretto c'è l'occasione che si tratta di attività di attività di attività di attività. Grazie.